Primo agosto torna la luna piena. La luna di questo mese ha una particolarità. Te la spiego in questo video. Prima se ti va iscriviti e lascia un like. Mi farai felice e contribuirai a far crescere un po' il mio canale. Grazie. Come dicevo, questo mese di agosto ci riserva una luna un po' particolare. Andiamo con calma. Il primo agosto sarà luna piena. Si tratta del plenilunio numero 8 per questo 2023. Non sarà semplicemente plenilunio, ma anche superluna, in quanto il nostro satellite si trova al Perigeo. Se mi segui sul canale, oramai saprai benissimo cosa significa Perigeo e che cos'è una superluna, per cui non mi soffermerò a spiegare il loro significato. In caso, ti lascio nei commenti la playlist con tutti i video dedicati al nostro satellite. Satellite che apparirà molto più grande e luminoso rispetto alle lune piene, per così dire, normali. Soprattutto se osservato quando è ancora basso sull'orizzonte. Il plenilunio si verifica circa ogni mese. Per l'esattezza ogni 29 giorni e qualche ora. Per questo, praticamente, c'è un plenilunio al mese. Ma il mese di agosto è particolare perché di pleniluni ce ne saranno addirittura due. Uno, come dicevo, il primo agosto, che coincide con il Perigeo e che quindi trasformerà il nostro satellite in superluna. Il secondo, il 31 agosto. E già questa è una bella coincidenza che non è molto frequente. Il bello è che anche quella del 31 agosto sarà una superluna. Quindi, la sorpresa che questo mese di agosto 2023 ci riserva sono due pleniluni correlative superlune. Uno il primo giorno del mese, uno l'ultimo giorno del mese. Quindi si potrebbe dire un doppio spettacolo. Ma se siete amanti anche delle stelle cadenti, gli spettacoli saranno tre in questo mese, perché quello di agosto è famoso per la notte di San Lorenzo, del giorno 10. Notte iconica in cui osservare il picco delle stelle cadenti. Pian piano con il passare del tempo, il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, ovvero quello che dà vita alle lacrime di San Lorenzo, si è spostato di qualche giorno. Quest'anno è previsto per il giorno 13, ma di questo ne parlerò in un prossimo video. Bene, grazie per aver guardato il filmato sino alla fine. Un saluto astronomico da Lucoral.